La provincia di Novara ha partecipato in qualità di uditore nella giornata di giovedì 22 febbraio, alla commissione indetta da Enac all'aeroporto di Malpensa per discutere, in particolare, del traffico in partenza dallo scalo. La nostra partecipazione, sottolinea il vicepresidente della provincia di Novara Michela Leoni, delegata ai trasporti, è arrivata dopo reiterate richieste, che sono state finalmente accolte in virtù del prezioso lavoro. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.